in gioceria e in terra di Pellano terra di lavoro, non è gioceria la gioceria non esiste allora lui ha citato ascia america io volevo capire che è lo scialletto? allora, l'ascia america in italiano si chiama la giamberga era praticamente quel vestito con due cote che si richiudevano era il vestito elegante che usavano i signorotti diciamo a metà otto in dialetto si chiamava ascia america mi mancava e abbiamo fatto un pezzo di cultura perché noi l'ascia america a rongolisse abbiamo un altro significato non so se è parallelo o meno però è nato significato grazie 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 grazie